Bene, Cortina a Danpezzo sta cambiando molto negli ultimi tempi, si sta evolvendo in termini anche di eventi. Sappiamo che è sempre una regina, la regina delle Donomiti, regina quindi anche di tutti gli sport invernali, ma soprattutto estivi. Abbiamo avuto in questi giorni diverse conferenze stampa che lo hanno dimostrato. Sono stati presentati moltissimi eventi internazionali, campionati del mondo, per tutte le attività, quindi è una cortina veramente accessibile a tutti. Si sta un po' staccando dalla nomea di una cortina esclusiva, una cortina solo dedicata ai VIP, una cortina aperta a tutti, soprattutto agli sportivi. Lo dimostra il grande numero di turisti stranieri che visitano ogni anno la nostra località, proprio per tutta l'offerta sportiva che hanno a disposizione, sia durante l'inverno sia durante l'estate. Le nostre strutture sono di ottimo livello, dai 2 stelle ai 3, 4, 5 stelle, B&B, appartamenti private, ce n'è proprio per tutti. Una grandissima scelta anche nel campo dell'enogastronomia, soprattutto in alta quota, oltre 50 rifugi, con dei panorami mozzafiato e una cucina veramente unica, tradizionale, ma soprattutto da gustare proprio davanti o ai piedi delle montagne. Quindi veramente una cortina da vivere a 360 gradi, non più solo d'estate, non più solo d'inverno, ma anche nel periodo autunnale e nel breve periodo primaverile. Quindi vi aspettiamo e lo potrete vedere con i vostri occhi.